www.feyyaz.tv 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 checo tira niti vieni a tirare vieni a tirare vieni a tirare niti vai Laura niti dai dai niti stacca la dai vieni a niti vieni a tirare eee vieni a tirare oh guardami 30 secondi vieni a tirare dai tira niti sveglia così ancora lì non deve uscire dai niti continua niti continua a tirare tira niti tira niti tira 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 brava tira 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 Anche perché sono una gara dove sono riuscita ad esprimermi bene in tutti gli incontri, ed è bello, non solo vincere, ma vincere esprimendosi in tranquillità. Quindi volevo dire Torino 2015 ti ha portato con tu? Sì, decisamente. E quando ti dico passione, che cosa vuol dire? Passione è tutto, senza questa non si muove niente, niente nella vita in generale, non solo nel karate. Se non c'è passione è meglio starsi fermi, meglio non vivere, passione è tutto. Sei una grande, auguri per i tuoi prossimi successi. Grazie, grazie.